Mi pare che dobbiamo concentrare la nostra attenzione sulle emergenze drammatiche che vive la nostra regione ed è chiaro che tutte le energie, tutte le risorse devono essere concentrate per dare una risposta alle grandi questioni del lavoro che manca soprattutto per i giovani. Oggi abbiamo completato la prima seduta, come avete visto è un po' come il primo giorno di scuola, c'è stata già una prima intemperanza, io spero, come ho richiamato, che il Consiglio si possa svolgere nella maniera più serena, più proficua, saranno rispettate le prorogative di tutti, ma c'è bisogno di comportamenti consoni perché abbiamo bisogno anche su questo di dare esempi ai nostri cittadini.